ah guarda chi c'è sta tutti a prossimo adriano a giri oh no oh si è venuto veniva qua invece te ne sta a f*****o stai venendo a me ti posso fare la f*****o e scappare però ti voglio avere davanti ma faccio via e fammi venire al luce oh no oh Ah, vengito questo volatone! Oh, l'avevo per l'unire un po' da niente! Oh, potere, il volatone è più forte! Era scontato, non c'era tutte le voce più forti, c'era torrentissima! Infatti, c'è un gioccorno in pace, non stava troppo l'italiano! E' come, come! E' come, come! E' come! E' come! E' come! Ani!